Adele Farace è salernitana, è neurologo e psicoterapeuta da anni impegnata in un campo specifico, quello dell'anoressia, bulimia, insomma disturbi alimentari. Scrive un libro, storia d'amore anorressico, il titolo è Quel meglio che uccide. Partiamo proprio dal titolo, perché? Il titolo l'ho scelto perché sta proprio a significare quello che succede a tutte queste ragazze, ragazzi che vanno incontro purtroppo a questa patologia, che abbracciano questo ideale del meglio, non del meglio possibile, ma del meglio ideale, di un meglio che non è mai basta così, va bene così, è un sempre meglio, un sempre meglio, posso fare sempre meglio fino chiaramente a ridurre le quantità sempre, sempre di più e a cascare, a entrare nella trappola dell'anoressia vera e propria. Avrebbe potuto scrivere un libro diciamo tecnico, tra virgolette, Adele Farace, invece ha scritto, ha tentato di scrivere un libro che sia soprattutto divulgativo. Assolutamente sì, divulgativo perché sono i giovani, le giovani interessate al problema che conoscendo possono prevenire, possono rendersi conto anche di situazioni in cui si trovano e che possono imparare ad aiutarsi prima, oltre che educatori che imparano, possono essere aiutati ad aprire il dialogo, perché è proprio farle esistere, come poi anche in terapia, l'incontro in cui queste persone, queste ragazze che non sono mai esistite, cominciano a sentirsi un po' più vive. Partiamo dalle conseguenze fisiche, oltre che psicologiche, di questa patologia. Le conseguenze fisiche sono poi abbastanza conosciute, perché è vero che ci sono varie forme di anorissie, anzi potremmo dire che le anorissie sono tante, quante sono le persone e i soggetti diciamo affetti, però chiaramente quando si va al di sotto di un minimo di peso l'organismo ha delle reazioni e si perde la salute, questo sempre, sia nelle forme restrittive che in quelle bulimiche e quindi purtroppo in quelle condizioni poi non si può neanche effettuare una psicoterapia, è lì che non si deve arrivare insomma. Lei diceva che è la seconda causa di morte tra i giovani, poi parleremo anche dei maschietti di suicidio, nei giovani la seconda causa di morte per suicidio dopo gli incidenti stradali chiaramente, ed è un aumento questo, un suicidio sia attivo nel senso che vanno incontro a queste tematiche per questa profonda depressione, sia indiretto perché il loro è un suicidarsi. Parliamo, noi spesso ci limitiamo a pensare al mondo femminile, all'altra metà del cielo quando parliamo di anoressia, però è un fenomeno che sta emergendo drammaticamente anche fra gli uomini. Sì, esattamente, assolutamente non dobbiamo pensare all'anoressia come un discorso femminile, è un discorso che ormai è trasversale, non è un problema di genere, è un problema di modalità, di vivere l'esistenza che adesso si sta diffondendo sempre più anche nei maschi. Nei maschi può assumere aspetti diversi, magari meno apparentemente cacchettici diciamo, però con altre caratteristiche, sempre ossessivi su un corpo che è quello estetico, non è quello vivo che noi sentiamo con le emozioni eccetera, ma una perfezione sempre da raggiungere di un corpo di fronte ad uno specchio. Quale messaggio lancia una ragazza, un ragazzo che arriva a trasformare il suo corpo, probabilmente per sembrare il meglio possibile all'esterno? Questa è una bella domanda, perché per l'esperienza che mi sono fatta il problema è proprio come leggere quel messaggio e trovare il modo di aiutare queste persone che proprio nel loro star male chiedono aiuto anche senza chiederlo e vogliono rompere il silenzio, il loro silenzio e in qualche modo cercano una via per risolverlo, cosa che devo dire è possibile uscire da questo tunnel se si attua una modifica non solo terapeutica ma anche familiare, perché l'età di insorgenza è sempre più precoce chiaramente. Ci sono tante storie raccontate in questo libro, quella che possiamo dire è una domanda classica che ti ha toccato di più? Ebbè sono storie che ho vissuto chiaramente come dico in prima persona, quella che mi ha toccato di più che è anche abbastanza recente è quella della storia raccontata dalla figlia di una madre affetta da anoressia da 30 anni che ha vissuto con l'esperienza di una madre che a fine pranzo e fine cena si alzava, andava in bagno e tornava dopo due minuti, silenzio assoluto, nessuno poteva dire niente, la cosa era così e basta per tutta la vita per 30 anni e quindi è venuta la figlia a chiedere aiuto perché aveva ansia, attacchi di panico, nonostante la laurea non riusciva a trovare lavoro per i problemi che aveva avuto da tutta questa esperienza e così finalmente questa mamma è riuscita ad affrontare questo problema anche lei grazie alla figlia. Chi è il primo che deve chiedere aiuto? Chi ci tiene all'intorno e comincia a capire che quei silenzi, quelle brave bambine o quelle brave donne dentro soffrono tantissimo. L'ultima domanda, quanta responsabilità ha questo nostro mondo, questa nostra contemporaneità in questa patologia? Beh, è chiaro che c'è stata una pressione enorme su questo discorso del corpo oggetto, del corpo perfetto, dell'angoscia di qualche chilo in più eccetera eccetera e questo chiaramente ha favorito tutto questo. Infine anche a Salerno lei è impegnata con due strutture proprio per aiutare chi vive questo dramma. In effetti devo dire che a Salerno c'è una struttura per il ricovero di queste ragazze perché pur essendo patologie psichiatriche è molto problematico tenerle in strutture psichiatriche proprio perché è un modo di star male, è una sofferenza mentale completamente diversa da quella a cui solitamente siamo abituati.